E' andata in archivio la prima giornata del campionato di eccellenza e non sono mancati i colpi di scena. Partono subito Forte e Cervinara, Virtus Avellino e Solofra. K.O. invece il Carlo Tenuto e Lions-Monts. Villutomo Montemiletto e Lioni di Marasco. Ma procediamo per ordine. L'Audax all'Alegretto di Montesarchio schianta 4-0 il Vico e Quenze. Costieri che sullo 0-0 con l'espertissimo Exio e Stabia Mezzavilla sbagliano un calcio di rigore. Poi Sbordone, la perla di Signorelli, Caro e Furno nella ripresa, regalano la prima gioia a Mr. Iuliano. Alla sessa di Castel San Giorgio va in scena il Carmine Cucinillo Show. La Virtus Avellino del tecnico Gianluca della Rocca, grazie al top player avellinese, si porta a casa la vittoria. Tripletta per l'ex Avellino, Arezzo, Fondi e Paganese e gol di Cozzolino e tutti nel primo tempo. Vince anche il Solofra. Al Gallucci il derby Irpino contro il Caro Tenuto e Giallo Blè. Segnano Sabatino, Rapolo e Cataldo. In mezzo i mandamentali avevano pareggiato la contesa con il calcio di rigore di Gioio. Alfina il Lions di Sgambati cede soltanto nella ripresa. Alla corazzata San Marzano, in gol Riccio e De Girolamo. Pecchiato perché i giovani leoni di Sgambati avevano tenuto bene il campo. A Ercolano Marascova K1-0 decide la partita un calciatore che non ha bisogno di presentazioni. L'ex Avellino Dario Balzano.